A partire da questa lezione, cominciamo finalmente a parlare di come rappresentare in proiezioni ortogonali le figure solide. Possiamo dividere i solidi in due grandi gruppi, solidi a spigolo, spesso noti come poliedri, e solidi di rotazione. I solidi a spigolo o poliedri sono la versione 3D dei poligoni per così dire, cioè sono quei solidi dotati di facce, costituite da poligoni, da spigoli e da vertici, e a questo gruppo appartiene la maggior parte dei solidi geometrici. I solidi di rotazione sono invece quei solidi generati dalla rotazione di una figura piana attorno ad una linea chiamata asse di rotazione. Di questo gruppo fanno parte il cilindro, il cono e la sfera, nonché le loro porzioni. Come è facile notare, i solidi di rotazione sono costituiti da una superficie laterale curva e non hanno spigoli. Nel caso del cilindro ci sono però due facce, chiamate basi, e nel caso del cono è presente un vertice. Per il momento ci concentreremo unicamente sulla rappresentazione in proiezioni ortogonali dei solidi a spigolo. Di come disegnare o rappresentare in proiezioni ortogonali un solido di rotazione, avremo invece modo di parlare più avanti, nei prossimi video. Ora, essendo questo un corso di disegno tecnico e non un corso di geometria, darò per scontata la conoscenza, anche solo approssimativa, dei solidi geometrici. Brevemente dirò che nel gruppo dei poliedri si distinguono due tipi di solido, che poi sono quelli maggiormente utilizzati non solo nelle proiezioni ortogonali, ma un po' in tutte quante le tecniche di rappresentazione. Si tratta dei prismi e delle piramidi, e di entrambi i gruppi noi ci concentreremo solo su quelli retti. Un prisma retto è un poliedro costituito da due basi uguali e parallele, che possono avere la forma di qualsiasi poligono, regolare o irregolare, e da tante facce laterali quanti sono i lati della base, tutte di forma rettangolare. I lati della base si chiamano spigoli di base, mentre quelli delle facce laterali sono gli spigoli laterali. Essi determinano l'altezza del prisma. Il tipo di poligono di base determina invece il tipo di prisma, triangolare, esagonale e così via. Se le basi sono poligoni regolari, anche il prisma si dice regolare. Una piramide retta è un poliedro costituito da una sola base, che può avere la forma di qualsiasi poligono, regolare o irregolare, e da tante facce laterali quanti sono i lati della base, tutte di forma triangolare. Le facce laterali convergono in un punto chiamato vertice. L'altezza della piramide è la perpendicolare condotta dal vertice alla base. Il tipo di poligono di base determina il tipo di piramide, triangolare, esagonale e così via. Se la base è un poligono regolare, anche la piramide si dice regolare. Detto questo, vediamo come determinare le proiezioni ortogonali di un poliedro. Sono i vertici del poliedro a delinearne la sagoma, e i vertici non sono altro che punti. E quindi sono proprio le proiezioni ortogonali di questi punti a determinare le proiezioni ortogonali di una figura solida sui tre piani di proiezione. È sufficiente mandare dai punti reali dei raggi proiettanti perpendicolari ai piani di proiezione. L'intersezione di questi raggi con i piani di proiezione determina la proiezione ortogonale dei punti su quel piano. Le proiezioni ortogonali dei punti sono unite tra loro tramite delle rette, chiamate rette di richiamo, che vanno disegnate in linea sottile. Ottenute tutte le proiezioni ortogonali dei vertici del poliedro, sarà sufficiente unirle secondo logica per ottenere le proiezioni ortogonali del poliedro stesso. La prima proiezione ci mostra l'oggetto così come esso appare visto dall'alto, la seconda proiezione come esso appare visto di fronte, la terza come esso appare visto di lato, sul fianco sinistro. Normalmente la terza proiezione viene ricavata a partire dalla prima e dalla seconda proiezione. Della prima proiezione essa conserva infatti gli aggetti, mentre della seconda proiezione conserva le altezze. Il problema è però che una figura solida, come del resto accadeva anche per le figure piane, può trovarsi disposta in molti modi rispetto ai piani di proiezione, e questo va naturalmente ad influire sulle sue proiezioni ortogonali. Le casistiche sono tantissime, anche più di quelle relative alle figure piane, che abbiamo analizzato una per una nei video precedenti. Tuttavia, nei video seguenti, cercheremo di illustrare, se non tutte, comunque le più frequenti casistiche. Essenzialmente, esse sono le seguenti. Figura solida appoggiante sul piano di proiezione PO o parallela al piano di proiezione PO e dritta rispetto agli altri due piani di proiezione. Figura solida appoggiante sul piano di proiezione PO o parallela al piano di proiezione PO e inclinata rispetto agli altri due piani di proiezione. Il piano proiezione si usa generalmente, ma non esclusivamente, quando vogliamo la figura solida parallela al PV o al PL e inclinata rispetto agli altri due piani di proiezione e, per la verità, si utilizza anche in alcuni casi di figura solida appoggiante sul piano di proiezione PO e inclinata rispetto agli altri due piani di proiezione che non rientrano nel punto 2. Figura solida su piano generico, cioè figura solida inclinata, a piacere o secondo inclinazioni precise, rispetto a tutti i piani di proiezione. Quest'ultimo punto richiederà particolare attenzione e può essere reso con più di una tecnica. Una difficoltà che incontreremo nel disegnare le proiezioni ortogonali dei solidi riguarda anche gli spigoli in evidenza e gli spigoli nascosti. Problema questo che non si è presentato finora, dal momento che abbiamo analizzato solo punti, rette e figure piane. Nel disegno tecnico, tutte le linee di costruzione devono essere tracciate in linea continua ma sottile. Le linee di costruzione sono le linee che permettono di tracciare la figura e rendono possibili certe costruzioni, ma che non riguardano gli spigoli, di base o laterali, della figura. Le rette di richiamo sono quindi le principali linee di costruzione che utilizzeremo. Le linee che definiscono la figura, e quindi le linee dei suoi spigoli, vanno sempre tracciate con un tratto marcato. In linea continua se sono spigoli che si vedono, cioè in evidenza. In linea tratteggiata se sono linee che non si vedono, cioè nascoste. Capire quali spigoli della figura si vedono o non si vedono in una delle tre visuali, dall'alto, di fronte o di fianco, non è sempre facile, e specie all'inizio è molto facile sbagliare. Quindi nei prossimi video ci concentreremo molto attentamente anche su questo aspetto. Da ricordare è anche una regola generale. Spesso può capitare che uno spigolo in evidenza e uno spigolo nascosto si sovrappongano. Per esempio, in questa figura, gli spigoli delle due basi si sovrappongono in prima proiezione, come pure gli spigoli di due facce in seconda e in terza proiezione. Ma concentriamoci per il momento solo sulla prima proiezione. La faccia superiore, ABCD, sicuramente si vede se guardiamo la figura dall'alto. Non si vede invece la faccia inferiore, EFGH, in quanto si trova sotto. Quindi gli spigoli della base superiore andrebbero disegnati in linea continua, e quelli della base inferiore andrebbero disegnati in linea tratteggiata. Quando due spigoli, uno in evidenza e uno nascosto, si sovrappongono, vince per così dire quello in evidenza, ed entrambi saranno rappresentati da un'unica linea marcata e continua. Ma tutto questo avremo modo di vederlo con calma in seguito. Vedo quindi appuntamento nei prossimi video, che caricherò quanto prima. Nel frattempo, non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando sull'apposito pulsante. Questo permetterà al canale di crescere, e mi darà l'entusiasmo necessario per caricare tanti altri nuovi video didattici. Grazie. 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 Grazie.